hola a tutti benvenuti in un nuovo video oggi video è un po' improvvisazione perché ho fatto un saltino sia da risparmio casa che da lidl insieme alla mia patatovic perché l'altra volta quando ci siamo andati non c'era tutto quello che mi serviva quindi oggi ho fatto proprio una capattina mirata e tra l'altro erano anche due differenti punti vendita ho trovato quello che mi serviva quindi da risparmio casa se vi siete persi l'altro video svuota la spesa con un sacco di prodotti interessanti ve lo lascio nelle schede è un saltino appunto da lidl tra l'altro vi mostro anche un paio di prodotti che ho acquistato qualche giorno fa sempre da lidl quindi faccio un video unico dove vi mostro questo piccolo mini haul prima però se ancora non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi video e supportarmi con un bel pollicino in su ed un commentino cominciamo subito con risparmio casa non so se vi ricordate la mia wish list post quarantena che comprendeva un organizer trasparente per la mia postazioncina avevo visto su amazon però costava sui 15 euro 17 molto carino mi ci sono imbattuta per caso oggi su da risparmio casa sono troppo contenta tra l'altro vi dico che da risparmio casa ho speso 14,23 grazie mille aiutante 3 euro e 99 sono solo contenta davvero contentissima questo è bat contenitore cosmetici a quattro compartimenti quattro spazi uno bello lungo e gli altri invece sono quadrati sono contentissima veramente contenta poi l'ho presa anche bianca perché mi è piaciuta troppo la patumierina questa stefan plus elegance anche l'etichetta quindi ve la posso mostrare da sei litri identica all'altra solo che bianca così la mettiamo nell'altro bagnetto è un amore mi piace tantissimo poi mi servivano assolutamente le spugnette queste spugna fibra abrasiva colors sei colors colors 8 pezzi perché io mi ostino a guardare dal cellulare capito invece devo guardare oltre perché non ci leggo niente risparmio casa sono otto pezzi tutti colorati perché io a seconda poi dei colori grazie fatata mi prende sempre in giro che faccio questa cosa a seconda dei colori differenzio poi l'utilizzo poi un altro di questi profumatori per la macchina muschio bianco e love my cat e love my pets profumi n co tra l'altro ho notato che anche se sempre gatto ci sono diverse profumazioni così come per il gufo questo invece ve lo voglio fare un pensierino e ho trovato perché praticamente questo ce l'ho agli sgoccioli è finito acce spray universale ossigeno attivo questo fresco profumo anche colorati e delicati è fantastico davvero stupenderrimo poi dall'idol gli acquistini di oggi sono dovrebbe essere anche lo scontrino primate ho pagato tutto 99 centesimi tranne una cosa 1 euro e 29 che dovrebbe essere il profumo speso 8 euro e 38 ho trovato tana perché mi servivano assolutamente eccoli colorati panni w5 multiuso colorati uguale li abbino alla alle spugnette per i tipi di utilizzo le adoro mi piacciono tantissimo grazie amore poi il sapone per le mani questo hand wash passion fruit and coconut sien sono molto curiosa di provarlo poi dischetti struccanti questi sien maxi cotton wool pads 100 per cento cotone da 70 pezzi li adoro non ne avevo più quindi ero mi servivano proprio poi il deodorante hot pink deodorant spray sien costo 24 ore l'avevo già preso energizing freshness mi era piaciuto tantissimo quello riacquistato cremina per le mani questa q10 cn cream anti aging quindi anche lspf 10 e poi due maschere per il viso sempre sien una e q10 anti winkle mask con q10 elipidi e l'altra invece per purificare purifying mask eccole qua invece l'altra volta ho preso le salvettine lupi lù da 80 pezzi comodissimi hanno anche clic che c'è moltissimo due bagno doccia che poi non so se riuscirò a farvi vedere nei finiti perché se me li prende poi robice sono per lui se li porta via però ce la fa però hanno dei profumi spettacolari si è in man seduction shower gel e shampoo due in uno spettacolare è uguale questo sport dei profumi splendidi per me invece non ho trovato quello shampoo anti forfora che compravo sempre da lidl non c'è più però ho trovato questo 2 99 l'uno ed è questo phb io è praticamente in combo 100 per cento bio con estratti vegetali vegan e poi mi pare che sia anche certificato fantastici c'è lo shampoo e il balsamo al timo quindi proprio anti forfora l'ho già provato una volta mi è piaciuto molto il profumo è fresco e sembra anche che funga comunque l'ho usato solo una volta quindi per il momento non posso dirvi di più ne acquistate le veline queste scrivi corinissime si è da 66 pezzi con i macaroni la confezioncina quadrata e poi i miei mitici sempre i proteggi slip da 45 pezzi che adoro veramente fantastici e quindi questi erano gli acquistini che che ho fatto oggi da risparmio casa e dall'idola se io spero di avervi tenuto un po di compagnia che video vi sia piaciuto grazie per averlo visto aspetto di leggermi vi mando tanti tanti super baciotissimi e se vi va ci vediamo al prossimo ciao ciao